big money big big guarda che glide qua mi va a scattini comunque quando carica vedi cosa vuol dire avvicinare i 5 beh dipende quale 5 8.4 non è quello per croccabile è quello per croccabile con un po' vabbè mi guadagni un po' di quanto? anche di un 10% 5% dipende dal processo anche dalla scheda mare perché c'è la versione meno h mi sa vabbè penso che i voltaggi li puoi impostare eh sì quello sì ma anche abbastanza avanzato come bios mmm oddio quante siete sei già arrivato lì? oh cazzo non avevo visto sì preparasi eh ma qui vendeci un sacco che avevo da prendere non lo prendo via deposito di indio non lo prendo via deposito di indio non lo prendi c'è a fare una missione cioè mi hai da raccattare roba ma mister cielo cazzo deposito di indio ora un po' non lo prendo via lo prendo via Grazie a tutti. Grazie a tutti. È nel mezzo io. Ci ho tirato un testa praticamente. Ho visto. Aspetta, ma lontano un attimo. Oddio, sto sparando sulla tonave. Scendo anch'io. Sei bolt caster del cazzo anche te, eh? Confitti. No, io ce l'ho spaventato in pulsi. È scarico però. Cazzo. Non ho più munizioni. Perché? Perché non riprendi mai quando hai sentire le moie. A parte già no. C'è quell'arma lì. Sì, munizioni. È cool. Munizioni universali. Smug si è vivo. Musiamo da quelli, c'è. Mi sa che si può andare a prendere... Non le che ne ammazza più. No. Mi rompono coglioni lo stesso. Ehi, ci mettiamo il cagliottamento. Anche. Eh, buon caster ci sono... Qualche colpo. Dov'è il punto di... Che dovevamo trovare? Il componente in cui dovevamo interagire? Tanto riprenderemo inizioni. Ci si è atterrato sopra. Ci si è atterrato sopra. Puttana Eva. Dove devi spostare la nave? Sennò ci si può interagire. Arrivano le sentinelle a tutte le parti. Sì. Movi, ti spostala. Che cazzata. È bloccato. È che vede le sentinelle in giro. Dobbiamo perdere... Bello, l'accomaleno, hai visto? Ci si è fatto. No, ancora è arrivata. Dove? Sì, è fatto. Oh, c'è un mob. Sì, c'è un nemico. Io ho interagito col terminale. Ah, ha rilevato l'attività assentamente. Guarda, fatto bene. Ancora? Tre secondi. Occhio, ci vedono, eh? Che falle, ma dove? Disattivata, vai. Ci vedono qui. Non è disattivata? Ci vedono, nasconditi un attimo. Io non c'ho più munizioni, quindi... Ma per i due... Ma scusa, quando loro le droppano? Quando muoiono? Via, via, via. Ti vede lì? Ti va dalla nave. Tutto pochino, queste bestie. No, ma la nave continua a vedere. Devi nascondere, fanno ricerca a sentinelle, e poi le perdi l'agro. Io sono a posto, non ce l'ho più a sentinelle dietro. Eh, ma se le vede in giro lui, è uguale. Lascia andare via. Perché te li stanno ancora inseguendo? No. Ora no. Sto facendo verissimo. Allora mi ha fatto a ferrare. Però io c'ho l'alert delle sentinelle. Cioè, siamo in zona, comunque. Eh, è lì. Cosa fa da fuori? No. Almeno bella. No, io non c'ho munizione, non la posso finire questa missione. Ma le munizioni sono in terra, vedo? C'è piena di munizioni in terra. La gioca, non ci pensavo più. Io non ho capito perché non li spari, allora. Se sai, le munizioni sono in terra. Ma li sto sparando? No, ma li sto sparando. No. Però è uno. Attenzione, sentirei da combattimento schierati. Ah... Ecco, che palle! Aspetta però, forse... Sì, ci siamo già visti... Metti 3 secondi, nascondi, nascondi! Ma lei ha visto cosa c'è lì? Hai visto cosa c'è lì? C'è un mercantile cascato! Un mercantile tra te! Vai, siamo a posto! Ora facciamo andare via! Sì, siamo a posto, ma... Eh, bisogna aspettare che vadano via! Se vanno via! Sì, vanno via! Forse rimangono leggermente lì! Vediamo, perché se rimangono leggermente lì, non si può fare! Per poco tempo! Ma vedi? Questa caneta lì cosa ti offre? Qui c'è un sacco di movimento, eh! Palle! Si spostano, so! Però le faccio incazzare perché le avevo il sodio! Ecco! Lo spostate però, magari, ora! Sono venti lì! Io le guardo dall'alto! Zitto, forse ora ce la faccio! No! E una si sta allontanando! Oddio, può una tornando dietro? È sul picco! La la vedo sempre nell'aria! Più o meno! Non la vedo sempre nell'aria perché la vedo anch'io! Non mi ha dato il segnalino! Un po' vediamo! Alveri strani! Allora? Niente, è toccato! Ma, sentine, io oggi non le vedo! Ci devono essere se mi dà l'indicatore vuol dire che ci sono a qualche parte! Eccola! Ce n'è una lì! Dove? Più avanti! Ah, lì! Vedi? No, li tira! Li tiro, li tiro! Ah, portali via! Mi cerca di non lagrarli! Sì! Quando scrittica li fa male! Ah? Quando fa il critico li fa male! Eh! Eh sì! Stanno sparando al terreno! Sa che qui non ci arrivano? Perché a me ci arrivo fra 33 minuti? Male! Dammi 6 secondi e ora non c'è più uno che c'è! Non c'è più... vedete lì! No! È un altro! Ci hanno spostato l'obiettivo! No! Davvero? 33 minuti! E quella vuol dire che l'hai sbloccato? Vedi che lì non c'è più? No! Ora c'è! Oh! Capisco! Mi dava 33 minuti! Non lo a caso! Però è perché c'è una vicella che intaggono su di me! Sì! Ritorna lì! Capito! Te l'ammacci! E ritorna lì a vedere! Eh sì! Sono curiosi! Comunque la camera è terminale da un'altra parte eh! Sì! 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 Andiamo a quell'altro! Eh! A questo punto! Sapessi dove era mia navicella? Ah di là! Ah! Il mercantino si lascia sta? Sì! Missione ci dà di più! È un minuto di distanza eh! Vabbè me lo faccio viaggiando! Siamo quasi nel fine settimana! Vendra! Eh! Siamo quasi... Siamo lì eh! Ma un minuto lo fai premendo solo W? Sì! No! È Maiusk! Ah ok! Ma che weekend? Riaprano i cinema, hai visto? Sì! Sì! E poi da giugno però purtroppo ci vuole il Green Pass anche le discoteche! Però solo se sei vaccinato! Infatti è buone! Ma devi essere vaccinato! Devi lasciare una tessera! Anche per viaggiare! Ah! Si inizia così eh! Vabbè! Vabbè! Vediamo cosa succede! È finita la libertà! È finita la libertà! È ancora presto! Ora siamo lì lì! Bitcoin sono a libertà, capito? Finché te la fanno fa sì! Ce la fai a terra? È arrivato! Guarda che bel pancheggio ti ho fatto! Boom! Uppla! Schizzi su eh! Uppla! Sì sì! Vai! È già iniziato a rompere i coglioni alle bestie! Parlaci ora con quello lì che non c'è nessuno no? Infatti sto facendo Chiave scaricata, sincronizzazione, dispositivo decrittato Computer Consegna il componente di ricambio al tizio Ma questa vai! Vai! Ah se no devo fare anch'io! Non ci credo! Sì? Dei fare anche te? Sì! Sì! 26 minuti! Vai! Vai! Ah no! Mi ci vuole il computer a me! Ma che cazzo! Come tu? In che senso? In che senso? Boh! Vediamo se mi fanno davanti! No! Cazzo! Se ti dava l'obiettivo lì, ce l'hai lì! Oh! Sennò che cazzo sarebbe? C'è il terminale per decrittare il componente di recupero Io non ce l'ho però al computer Che l'ho analizzato! Quindi? Quindi? Possibile! Come lo risolvo stasera? Lo risolvi? Ma non è che se le consegno la roba l'abbiamo finita la missione! Anche perché? Guarda se la consegni te! Siamo in gruppo! Ho scrupato un sacco di carburante! Guarda guarda! Lì da te! No! Me li da qui i punti eh! Devo fare qui! Cazzo! Ma lì dove? Però! Devo ritrovare un altro componente di merda! Di lì di prima! Ma hai trovato un genetico? Un impasse! Mi sei bloccato un po' su un impasse! Non dovevo analizzare il computer! A quanto pare! Allora? Non la posso completare! Vai avanti te! Vediamo se te la fa completare con me! Io l'ho consegnato! Seguo! Che ti ho detto niente? No! Oh cazzo! Arrivo anch'io lì! Ave, ave,来. Connor! Mi si è smuttanata la missione Davvero? Impossibile È che non ho ancora capito se sono singole Che uno deve fare la sua Oppure che basta che uno le faccia Io l'ho fatta, dovrebbe dare completa No, non mi dà completa Mi dice sempre assistenza anonima Anche a me Però mi dice torna al Nexus A me no E cosa ti dice? Cazzo, mi dice D'attiva il componente di liquidazione Ma non c'è il computer, quindi Non metta il culo, fammi vedere se me lo da qui No, vedi Perché ho bruciato l'oggetto Ora ce l'ho il culo Abbandono la missione No Brutta storia, venga Ti può abbandonare Ti faccio un giro un attimo Capisco Forse quello era il tuo E quell'altro è il mio Ma scusè No, me l'ha levata Me l'ha levata l'oggetto Ora vado lì dove mi dà Eh Verai Che vuol dire che c'è sempre allora La missione segnata Eh ma perché è a mezzo Te ripeto Non c'ho il computer In tasca Sicuro che non ce l'hai Vediamo Magari è questo Vì, quello che intendo io C'è una per onde E' una un po' Capisco Perché noi ce l'hanno un po' Rottorcazzo Questa è completamente Piantata proprio Rilevata l'attività Sentinelle Non ce n'è Eh Così Ti è bloccato il gioco E ora Si è bloccata la quest Per riuscire a entrare Salva Ma Fa cazzare sta cosa però Abbastanza Perché mi dice bloccato E non ce n'è sentinelle O mi dà nemmeno l'icona Vado a quell'altro Vado alla spazione spaziale Intanto a vendere la roba Io Vai vai Nel Nexus Non ci può vendere niente Nel Nexus Non puoi vendere No Enorme Che piensas Dove si morìa Si Spore un dispositivo compatibile Vedi c'è scritto Decrito Un computer di navigazione E non ce n'ho Ne avevi trovati tre Tipo Eh L'ho analizzati Eh Ma uno solo bastava Ti diceva che non era quello giusto L'ho analizzati tutti Pensavo andasse usata così Basta Vado via Ma anch'io eh Guarda che io Non ho perso uno E non ho analizzato uno E io non ce n'ho E poi mi ha detto Vai laggiù Eh anche a me E poi niente Mi si è piantato così Quindi Panculo sta questa C'è una Non me la faccio a nulla Ha portato il quest Ha portato il pet dentro E è tutto bugato Bellino Un pet fuori di testa Infatti io non ti vedo più Nella missione Tutto è nata un'anomalia Vediamo se me la fa Annullare Vado la missione Vado Visto Fato questo Però hai preso Non hai preso il bonus Faccio Vado